Si è chiusa sabato scorso la stagione di Fuzz al Cadetto. In archivio l'annata di Serie B 2016-2017, la Chaminade con la vittoria nei play-out contro il Cataforio ha di fatto piazzato la classica cilegina sulla torta per quel che riguarda il calcio a 5 molisano. Un'annata importante da ricordare, i serni a calcio a 5 promossa in Serie A2, Cus Molise salvo con anticipo, come la Chaminade poi al termine di una dura battaglia contro la squadra Calabra. Sabato scorso, nella nostra lunga diretta, abbiamo raccontato il 2-0 del Rossoblu. Le reti di Pescolla e Petrella, ormai consegnate alla storia, hanno regolato il Cataforio con un totale di 7-6 al termine delle due gare. Un successo non solo sportivo ma anche di pubblico, palestra Sturzo praticamente inaccessibile e gremita in ogni ordine di posto e non. Un patrimonio, quello creato dalla Chaminade, seguita da un numero impressionante di sostenitori. Una giornata di festa conclusa con la sospirata salvezza al termine di una grande sofferenza nei minuti finali. A questo punto le molisane sono pronte ad organizzare la nuova stagione. Futsal ben rappresentato nel 2017-2018. I Sernia in Serie A2, Circolo la Nebbia, Cus Molise e Chaminade in Serie B. La società bianco-celeste dei fratelli Ionata è già entrata nel vivo. Dopo la prima conferma di Bico Pelentir, il mancino brasiliano che ha fatto impazzire il pubblico del pallafraraccio e non, è arrivata anche la fumata bianca per Fausto Scarpitti e tutto il suo staff, composto da Matticoli, Perrella, De Rosa, Crudele, Perna, Amicone e Giuliano. Confermato in blocco dunque lo staff che ha lavorato alla grande per l'Isernia Calcio A5. Una conferma non solo a livello di qualità del lavoro, ma soprattutto nel segno della mollisanità. Scarpitti al suo terzo anno sulla panchina dell'Isernia, dopo essere subentrato nella stagione 2015-2016, numeri impressionanti per il tecnico che ha tutte le intenzioni di confermare l'ottimo lavoro anche nel torneo difficilissimo di A2. Ieri ufficiale anche l'ingaggio del giocatore argentino classe 91, Juan Perri, un colpo da 90. Il giocatore ex Salinis ha militato negli ultimi cinque anni tra Serie A1 e A2, subito un rinforzo di lusso per il confermatissimo Scarpitti. Bianco celesti che a livello di squadra saranno la massima autorità sul nostro territorio nella prossima stagione sportiva. È ovviamente presto, ma come dice il detto, chi ben comincia è a metà dell'opera.